E nulla, mo ci si mettono pure gli alieni Salve a tutti Blazers e bentornati nella serie di Ark Siamo mancati per una settimana o forse un po' di più Perché? Perché ho avuto problemi con internet Quindi mi era impossibile giocare, dato che siamo su un server Mi era anche impossibile entrare perché dovevo scaricare le mod Che sono in costante aggiornamento E nulla, rientro e per prima cosa mi ritrovo morto, ucciso da un Ninetales Infatti adesso ho solamente questa poca roba E poi così a caso scende dal cielo questo UFO Questo contenitore di alieni che mi vogliono uccidere sicuramente E vediamo se posso almeno raccogliere la roba Prendi tutto Ok, figo Almeno un colpo di culo Progetti sgangherato guanti in pelle Figo Come si usa questo? Non lo so Ok, non sono molto fortunato Perché inizio e mi ritrovo morto Però tutto sommato adesso sono full protetto Quindi ci sta come cosa Siamo ancora incastrati in questa città Lì c'è il mio Gesualdo Testosterone Da qualche parte c'è Entiflusion E ci sono tutti i vari pazzoidi che abitano in questa città Abbiamo trovato sciamani Il nostro gemello perduto E un sacco di altra Gente... C'è un dinosauro laggiù che sta addentando la roccia Lo avete visto anche voi o sono scemo io? Ecco, eh, sono caduto Bene Andiamo così anche a morire probabilmente Eh, perfetto Grande, bel inizio Perché deve essere così difficile? Direi che è tutto nella norma per ora, eh? Comunque non c'è nulla di strano per essere Ark Ma basta a suicidarti Ma sono caduto nell'acqua Ma cosa devo fare? Allora, io direi che in questo modo Cado nell'acqua, ok? Giusto? Ok, non sono morto Ora, qui c'è il mio cadavere Però ero morto anche... C'è uno in piedi lì Ma il mio cadavere è quello? Oh mio Dio! Ragazzi, sono morto in piedi! Sono morto in piedi! Come barba bianca, ma che è? Non si sa come mai Sto personaggio qui ha freddo anche adesso che... Oh, madonna! Quanti? Cos'è un Fight Club nascosto? Quanti Machamp ci sono qua? Ma stiamo scherzando? Una bella accetta di pietra Mi serve, mi serve giusto giusto una selce Quindi andiamo a mettere di nuovo in ordine il piccone E in teoria dovremmo poterla... Perché non riesco... Ma questa roccia era finta, ma che succede? Mi fai picconare della roccia? Ma funziona qualcosa qui dentro? Selce, perfetto, grazie Oh, madonna, che pazienza! Crea oggetto Intanto, ci facciamo anche una bella torcia? Ok, a questo punto Prima di fare qualsiasi cosa Mentre abbiamo sbloccato un altro livello, a quanto pare Dovremmo poter Craftare un narcotizzante Il mortaio Con pestello Mi serve un sacco di pietra E la pelle La pelle potrebbe essere un problema Perché per avere la pelle Dovrei Uccidere i Pokémon Quindi, se uccido i Pokémon Probabilmente Fanno prima uccidere il loro me Perché Sono troppo debole E laggiù, ragazzi, lo vedete? C'è un enorme T-Rex Un Tyrantrum Che sta prendendo a morsi gli altri Pokémon E potrebbe Oh, c'è anche Un tesoro Tipo un alieno Che sta cadendo E ci sono dei Dei Pidge Oddio Pidgeout Mi servirebbe un botto No 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 Dai Non ci credo Non ci posso credere E mi sono suicidato Sono caduto in acqua Però Per il gioco È un suicidio Ma Perché? Ma in che modo sto nuotando In tutto ciò, ragazzi? Sto volando Oddio Ha solo i piedi Oddio sto volando, ragazzi Nuoto nell'aria Oh, madonna Quanta ignoranza Questo gioco Una cosa impressionante Tranquilli, ragazzi Ho tutto sotto controllo Dei piani L'ha esceso anche un altro alieno Ok? Quindi, perfetto Adesso, guardate cosa facciamo Realizzabili Torcia Bam Ci andiamo a mettere in mano la torcia E È diventato tutto più luminoso Quindi la torcia non serve più Dicevo, in teoria Ora, con la torcia Dovrei poter guardare meglio E cercare il mio cadavere Ragazzi Non c'è Il mio corpo Il mio corpo Non c'è più Questo che cos'è? Che cazzo è sta roba? Un Ninetales morto? Qualcuno aveva ucciso un Ninetales? Lì sembra esserci tipo una casa Addirittura Il Terrantrum fa abbastanza panico e terrore Quindi mi terrei a debita distanza Mentre quello e il raggio alieno Invece ci potrebbe fare comodo Perché potremmo trovarci roba interessante Quindi andiamoci Non ci credo Non ci voglio Ma si è disintegrato davanti ai miei occhi Ma potevi finire? Non ci credo Ragazzi Sta merda è a tempo Non poteva andare via Letteralmente due secondi dopo No Davanti ai miei occhi si è sciolto Ah oddio Mi ricordo questo posto Era un luogo dove ci eravamo messi Quando facevamo l'intro Comunque Vedete Lui è perfettamente Concentrato sull'Umbreon Una volta che lui morirà Io in teoria posso andare a Che palle Che palle Ok siamo stati mangiati vivi Da un dinosauro Un pokemon dinosauro Adesso Per piacere Può essere finita qui la mia sfiga Dato che ho perso tutti i miei averi Ok però non è tutto perduto Malgrado ci siano ancora i Pidgeot Che girano Qui in zona E adesso abbiamo imparato Che sono pericolosi Quindi bisogna Farci un attimino attenzione Ci sono Cioè in questa zona Io ero venuto una volta Con il mio Fratello Pusterlengo E lui aveva creato un mortaio Vedo Oddio lo vedo Ti prego dimmi Che l'ha lasciato lì Perché se lì c'è un mortaio Abbiamo una speranza Di crearci Le frecce narcotizzanti Ragazzi Quindi Dobbiamo andarci Andiamo subito Ti prego ti prego Ti prego Yes Sì 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 Grande Grandissimo Allora Ok Come minchia funziona Però sta roba Allora dai Abbiamo questa missione Sono sicuro di potercela fare Il Tyrantrum è ancora lì Che si sta mordendo Con Umbreon Cioè davvero sono ancora Oddio Non ce l'hanno ancora fatta A venirne a capo Ok Quindi In tutto ciò Più o meno in questa zona Io ero morto E È rimasto Uno zaino È rimasto uno zaino Di tutto Quello che c'era Del mio corpo È rimasto uno zaino Santo Dio Ok Di nuovo Non è tutto perduto Dobbiamo evitare quel Pigeot C'era un cadavere Di un Ninetales Possiamo prendere Da esso La carne Però occhio a Pigeot Pigeot è un uccello cattivo Ok Ok Quindi giriamo a largo Oddio 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 Mi sta seguendo vero Mi sta seguendo Temo di sì Temo di sì Fa vedere Mi sta seguendo Di brutto Merda Merda mi ha spaccato l'ossa No 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 Fanculo Ok Forse questa volta Ce la potremmo fare Voi direte Che cosa è cambiato Stai facendo schifo Fino un attimo fa E sto facendo schifo Tuttora Ma Ragazzi Ho la carne marcia L'ho rubata dal cadavere Che c'era in città Mi spiace Però è solo carne marcia E il mio compagno Tirlos È stato ucciso Comunque Vedete sto raccogliendo Un sacco di roba E in teoria ragazzi Dovremmo fare buone cose Perché adesso Ci andiamo a prendere Un po' di legno Con il quale Mi vado a craftare Il mio piccone Così andiamo subito Subito A prenderci Di nuovo la pietra Perché ne abbiamo bisogno Oh il piccone funziona Da dio contro gli alberi Non lo sapevo questo Fichissimo Fatto sta Che Vediamo un po' L'arco Dove sta l'arco Ragazzi Allora le frecce di pietra Innanzitutto Crea freccia di pietra Quante me ne fa così Una No non dà fastidio Suo suono Tranquillo Mentre per l'arco Cos'è che ci manca Le fibre Ci mancano un po' di fabri Quindi ragazzi Andiamo a prendere Un po' di fabri Oh che bello Vedi devi prendere le fibre Molto easy Tu vai Raccogli cespugli Easy Davvero ci sta Ci sta Mi piace raccogliere le fibre Molto molto bene A questo punto Dovrei poter realizzare L'arco Guarda qui Come lo realizziamo Subito E poi Dovrei poter creare Anche il narcotizzante Quindi ci dobbiamo mettere qui E in teoria Trascinare le narcobacche E trascinare la carne Marcia schifosa Giusto? Ok Detto ciò Come funziona? Ah ragazzi ho capito Questa è una cartella Quindi io devo andare qui E c'è il narcotico Che dovrei poter creare Ora Come lo creiamo Con la narcobacca La carne marcia Abbiamo detto Ed eccolo qui Oh mio dio ce l'abbiamo fatta Quindi vai a creare Adesso non so quanto narcotico ci può servire Ma creiamone tre Me ne fa fare tre al momento Ok Ragazzi abbiamo fatto Undici narcotici A questo punto Andiamo a farci le nostre frecce Narcotizzanti E direi che ci siamo Eccole qui Frecce sedativo Crea oggetti Anzi crea tutto Ne possiamo fare undici Benissimo Benissimo ragazzi Ora Frecce Le andiamo a equipaggiare all'arco Arco Lo equipaggiamo Ci cerchiamo il fottuto Pigeut Lo devastiamo E abbiamo il nostro pokemon volante Questo è il piano Non ce la farò mai Però ci proviamo Che livello sarà? Non lo vedo il livello purtroppo Vado eh L'ho preso L'ho preso Mi attacca Mi attacca Merda 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 Mi sta attaccando credo Mi sta attaccando di brutto Mentre mi è marcita un sacco di roba Andiamo vicino al mortaio Se devo crepare Lo faremo lì Così posso recuperare le mie cose Mal che vada Vai Ci sto provando ragazzi Ci proviamo Ci provi Dove è andato? Non c'è più Se è scappato È scappato Oddio L'ho visto Mi vuole attaccare? Che Mi sta svolazzando intorno Raga Mi svolazza intorno? Dov'è? Mi sta volando Ma è impazzito Cioè ragazzi Io che cosa dovrei fare In una situazione di questo tipo Spiegatemelo voi Non so cosa Cosa devo fare? Stai fermo Brutta merda Non lo posso manco frecciare In questo modo Ma che palle Niente Lui si è già affezionato Mi No 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 Semplicemente no È notte fonda Piove E non si sa come Io ho acceso un fuoco Che brucia Nonostante la pioggia Però Fa niente Ho recuperato tutto Il mio corpo Non c'era più Perché Pidgeot Se l'è mangiato Ok Ma c'è di buono Che abbiamo sei frecce narcotizzanti E possiamo Combinare qualcosa Magari Non appena fa un po' più chiaro Sta già avvenendo In realtà Il giorno E cosa sono quelle Nuvole tipo di fumo Vabbè Non me lo voglio chiedere Lì c'è un Pidgeot Ora Dobbiamo constatare il livello Prima di fare qualsiasi cosa Perché se è di un livello Troppo alto Posso anche sparargli Un bazooka in testa Proprio tutto il bazooka intero E credo che Non ce la potrei mai fare D'altronde Se non mi dici Il livello Avvicinandomi Così noi nel dubbio Ci avviciniamo Con l'arco già teso E Mi ha visto Mi vuole uccidere Mi vuole uccidere raga Mi vuole uccidere È partita la danza È partita la danza Ok ho recuperato la freccia Merda Che cazzo Come faccio a colpirlo Se mi giri intorno In questo modo Scappo Me ne vado Provo ad andarmene Cosa devo fare Mi ha mollato Per fortuna È così Chiudiamo Con un altro Tyrantrum Che a caso Mi tira un morso Benché fosse Concentrato Su un altro pokemon È nulla Ci teniamo Il nostro Testosterone E il nostro Intiflusion Anche se se n'è andato Da qualche parte E Io mi Mi nascondo a terra Mi sdraio Sono stanco Voglio riposare Probabilmente Pigeot Non fa per noi Forse Dovremmo Sceglierci Che ne so Zubat Potrebbe Essere il caso Ma non Pigeot Pigeot Non ne voglio più Sapere in mente Pigeot Pigeot